Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con una ampia pagina di cronaca. 11 misure cautelari sono state eseguite all'alba di oggi dalla polizia a Pescara, polizia che ha sgominato una organizzazione di romeni e albanesi che si era specializzata nello sfruttamento della prostituzione. Il servizio è di Paolo Renzetti. Scacco al racket della prostituzione a Pescara dove gli agenti della squadra mobile hanno sgominato una organizzazione che gestiva lo sfruttamento di alcune donne nella zona del centro cittadino e verso la Pineta Sud. 11 le misure cautelari restrittive eseguite all'alba di oggi una persona risulta ancora latitante. Ancora una volta emerge in tutta la sua gravità il fenomeno della prostituzione a Pescara sia in centro che in periferia. Sì, è l'ennesima operazione che noi conduciamo, che non è una lotta contro i mulini a vento perché è un'azione di contrasto comunque necessaria. Anche furti e rapine continuano ad accadere e non per questo noi smettiamo di arrestare rapinatori e ladri. Quindi anche sul versante della prostituzione andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo fatto già luce su casi pregressi piuttosto inquietanti, abbiamo seguito un anno e mezzo fa una storia di aborti clandestini, abbiamo una volta liberato una ragazza che era tenuta come una schiava. Oggi ci siamo imbattuti in questa storia di questa prostituta affetta da HIV e depatite che potrebbe aver contagiato qualcuno. Quindi è necessario proseguire nel contrasto a questo tipo di fenomeno che tra l'altro garantisce ingenti profitti. Se rendessimo la vita facile agli sfruttatori credo che la situazione sarebbe ben peggiore di quella che abbiamo oggi sotto gli occhi. In azione albanesi e romeni? Albanesi e romeni sì, con il supporto di due italiani come gregari, cinque gruppi divisi tra di loro eppure comunicanti perché con una strategia coordinata tendevano a evitare il più possibile i conflitti su strada. Questo nell'ottica di massimizzare i profitti per evitare che l'attenzione delle forze dell'ordine si concentrasse su di loro. Avete quantificato profitti per le organizzazioni a 9-0? Sì, una delle associazioni più strutturate nel giro di un anno ha effettuato rimesse in Albania per 160 mila euro che sono solo una parte dei ricavi complessivi perché immaginiamo che un'altra parte cospigua sia stata destinata ad altre spese di mantenimento e soprattutto che ci siano state anche rimesse per contante che ovviamente non abbiamo potuto tracciare. Un operaio di 55 anni è morto questa mattina travolto dalla piccola ruspa che stava manovrando per la manutenzione del verde ai bordi della carreggiata dell'autostrada A14 fra i caselli di Vasto Nord e Val di Sangro. L'incidente è accaduto nel territorio di Casalbordino, dunque sempre in provincia di Chieti. L'uomo residente a San Salvo era dipendente di una ditta di Ravenna che da anni si occupa per conto di autostrade della sistemazione della vegetazione in quel tratto. La ruspa si trovava in un punto di forte pendenza nei pressi di un canale di scolo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud per ricostruire la dinamica dell'incidente. La salma recuperata dei vigili del fuoco di Vasto è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Casalbordino. Il magistrato Enrico Medori ha restituito ai familiari le salme dei due alpinisti terramani precipitati domenica scorsa durante una scalata al Brancastello. L'autopsia ha evidenziato che non ci sono stati malori e dunque la causa dell'incidente mortale da attribuire ad un errore umano il servizio di Tania Bonici Castelli. Il pubblico ministero di Teramo Enrico Medori ha concesso il nulla osta alla riconsegna delle salme dei due alpinisti terramani Francesco Carta e Enrico Faiani precipitati domenica 30 aprile mentre scalavano la via del Brancastello nel vallone di San Pietro versante di Teramo. 45 anni Carta di Cerminiano e 60 anni Faiani, artigiano di Castelli, entrambi esperti scalatori. Sono morti per le conseguenze della caduta, l'autopsia infatti non ha evidenziato possibili malori, dunque un errore umano, l'ultimo dei sempre più frequenti casi di morte in montagna. C'è stata un'imprudenza secondo lei? Diciamo che potevano usare un po' di criteri di sicurezza normali, quotidiani, cioè il minimo si dovevano legare e salire su con la progressione classica, con Ramponi e Picozza e con la sicurezza dovuta, quindi il fatto che sono stati così tutti e cinque slegati hanno rischiato un po'. L'altro ieri era dura, la neve era veramente dura, anche se lì è un versante abbastanza est, però c'è stata un po' di leggerezza. Perché si rischia sempre di più? Diciamo che c'è molta più gente che va in montagna rispetto a tanti anni fa, quindi comunque c'è tanta gente che comunque non è assolutamente in grado di valutare il pericolo. Lei fra l'altro ha sostenuto una legge importante proprio per far sì che le persone che si avvicinano alla montagna siano consapevoli. Il soccorso, quando c'è urgenza, si può benissimo fare il soccorso con l'elicottero e con tutti i mezzi possibili, però bisogna un attimino valutare che se si alza un elicottero con quello che costa e con il rischio, che poi abbiamo visto l'esperienza del povero Davide De Caro, disse che è morto per una sciocchezza, per andare a soccorrere uno che aveva una semplice frattura, ma possiamo scherzare. Quindi il soccorso a pagamento servirà un po' per cautelare, un po' per non far rischiare più di tanto. Intanto qual è il suo messaggio anche agli esperti scalatori? In questo periodo molta prudenza, molta attenzione e non sottovalutare quelle che sono adesso le differenze di temperatura, che ci sono facilissimo. Ieri era una giornata diversa, ad esempio non servivano tutte quelle precauzioni, quindi attenzione, più attenzione basta. Intanto la magistratura sta lavorando per accertare esattamente la dinamica dell'incidente e per questo saranno ascoltati gli altri alpinisti presenti sul Brancastello al momento della tragedia. Due coniugi di 32 anni, Silvia Dercole e Giuseppe Pirocchi, entrambi residenti a Scerni, in provincia di Chieti, sono morti ieri pomeriggio cadendo nelle acque del fiume Orta a Caramanico Terme. A lanciare l'allarme erano stati alcuni testimoni che li hanno visti scivolare. I corpi sono stati recuperati dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Secondo le prime testimonianze dei presenti, la donna sarebbe caduta nel fiume e il marito, nel tentativo di soccorrerla, avrebbe perso l'appiglio insieme a lei. Trascinati via dal fiume in piena, i corpi sono stati ritrovati a circa 500 metri distanti dal luogo dell'incidente ed estratti rispettivamente dagli elicotteri di Vigili del Fuoco e 118. Sul luogo hanno contribuito alle operazioni di estrazione i tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, con squadre di terra, insieme a personale dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Popoli. Una tragica fatalità ha tolto la vita a due giovani ragazzi della nostra comunità. Un triste pensiero va ai loro bambini e ai familiari in questo momento difficile. Ci stringiamo con dolore e affetto alla famiglia d'Ercole e Pirocchi, è quanto si legge sulla pagina istituzionale del Comune di Scerni. Invece sulla propria pagina di Facebook il sindaco di Caramanico, Simone Angelucci, ha scritto Caramanico Terme si stringe intorno alla comunità di Scerni, esprimiamo la nostra affettuosa vicinanza e il nostro cordoglio ai familiari delle vittime del tragico incidente verificatosi ieri in località, i Lucchi. Cambiamo pagina, ora la politica. Sinistra italiana nomina il nuovo coordinatore regionale Daniele Liccheri, ex segretario provinciale di SEL, analizza il nuovo scenario politico alla luce anche delle primarie del PD e in vista delle prossime elezioni. Francesca Romana Testi. Sinistra italiana prosegue il suo percorso di sviluppo. A 18 mesi dalla nascita, dopo l'esodo di alcuni rappresentanti regionali come Gianni Melilla e Mario Mazzocca, si procede a nuove nomine. La prima è quella di Daniele Liccheri che passa da segretario provinciale di Pescara a SEL a coordinatore regionale. Noi abbiamo già in cantiere una serie di progetti di lavoro sul territorio che punteranno tantissimo sul mutualismo e su una serie di tematiche che sono nostre come il reddito minimo di cittadinanza e le vertenze ambientali che rimangono all'ordine del giorno, quindi il parco della costa Teatina, la bonifica del sito di bussi in cui siamo già andati recentemente con la nostra responsabilità dell'ambiente, Palo Natalicchio, a fare un sopralluogo. Queste resteranno le priorità di sinistra italiana. Noi crediamo che per chi è andato via e per chi viene, sinistra italiana non sarà un luogo di transizione, ma sarà un luogo che vuole costruire un percorso molto più lungo. Quindi noi siamo pronti a lavorare con tutti, ma soprattutto con chi vuole fare un percorso che sia solido, per quello abbiamo costruito un partito e non un movimento. All'indomani delle primarie del PD che hanno visto vincere ancora Matteo Renzi e in vista delle prossime elezioni, ora la riflessione va sulla frammentazione dei tanti partiti in cerca di coalizione. Secondo me il dato reale è quello che il Partito Democratico oggi è il partito di Renzi, nel senso che non ci si può girare intorno, chi vince ha ragione, quindi il PD a trazione renziana non è morto come qualcuno pensava qualche mese fa, è più forte di prima e questo necessita un'accelerazione a sinistra per riorganizzare un quadro di alternativa. L'abbiamo detto al Congresso Nazionale insieme all'elezione del nostro segretario nazionale che dirimente ricostruire a sinistra un percorso nuovo, come si è fatto nel resto d'Europa, d'altronde con Podemos e con tantissime altre esperienze di partecipazione dal basso, perché evidentemente il governo attuale e quello che l'ha preceduto purtroppo vanno in un'altra direzione che per la sinistra sicuramente è assolutamente negativo. Uno studio sociologico portato avanti dall'Università di Chieti ha analizzato 260.000 dati conservati negli archivi parrocchiali della Madonna dei Sette Dolori di Pescara. Un viaggio di 247 anni basato sugli atti di battesimo che delineano storia e sviluppo demografico di Castellamare Adriatico. Tre anni di lavoro, 13 volumi contenenti 260.000 dati e una storia che abbraccia un'epoca che va dal 3 settembre 1667 al 31 dicembre 1914. Si tratta di atti di battesimo che raccontano lo sviluppo di Castellammare tramite l'archivio storico dell'unica parrocchia esistente all'epoca, la Madonna dei Sette Dolori, a sostenere tutti i costi del lungo lavoro proprio la parrocchia di padre Sergio. È una fonte importante che spesso viene trascurata, che rischia appunto di non trovare un punto di riferimento in cui raccogliere tutto questo materiale e quindi grande interesse a questa documentazione soprattutto per la parrocchia della Madonna dei Sette Dolori che rappresentava l'unica parrocchia esistente nel territorio di Castellammare fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Questa ricerca è nata da un progetto che è in sinergia con la parrocchia della Madonna dei Sette Dolori che ha informatizzato il materiale e che poi ha prodotto questo libro che andremo a presentare il 5 di maggio e che vuole essere il risultato di questa ricerca ma soprattutto lo stimolo a quanti vogliono utilizzare questo materiale per ulteriori spunti di riflessione. Una ricostruzione storica di valore locale non solo, un lavoro portato avanti dall'Università di Chieti che spiega lo sviluppo demografico e culturale avvenuto fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. C'è dietro uno studio sia di ricerca archivistico ma anche di cultura perché da questa iniziativa si riesce a risalire ai primi anni della nostra città. È una ricerca di identità che va ad affrontare la storia di Pescara, quindi dalla nascita di Pescara in avanti per far capire anche l'importanza dei centri di aggregazione come le parrocchie nello studio della storia della nostra città. Si svolgerà a Montesilvano dal 4 al 7 maggio al Paladin Martin il trofeo Scacchi Scuola con 355 squadre provenienti da tutta Italia e 1900 partecipanti. L'organizzazione è curata dal MIUR, dal CONI, dal Comune di Montesilvano e dalla Federscacchi. Re Beggiani si parla di questa importante manifestazione che si terrà a Montesilvano, si parla di Scacchi. Voi rappresentate il meglio di questa disciplina sportiva in Abruzzo. Certo, noi abbiamo un'attività importante sia a livello scolastico da tanti anni che dà un impatto formativo ed educativo enorme ai nostri ragazzi e anche a livello di vertice perché siamo stati campioni d'Italia tante volte, lo scorso anno doppio titolo maschile che femminile, proprio ieri abbiamo invece perso i titoli, entrambi i titoli a Gallipo in questa finale nazionale, abbiamo comunque riportato un secondo posto nel maschile e un terzo nel femminile e adesso siamo già coinvolti in questa organizzazione insieme all'Accademia Internazionale di Scacchi, molto importante perché avremo dal 4 al 7 maggio qui a Montesilvano con il coinvolgimento di tutta l'amministrazione comunale, degli operatori alberghieri, un importantissimo evento. Questa è la fase finale appunto del campionato nazionale delle scuole con numeri importanti perché ci sono tutte le regioni d'Italia, 1900 ragazzi che si sfideranno contemporaneamente al Paladin Martin qui di Montesilvano, quindi sarà sicuramente uno spettacolo sia sportivo ma anche visivo proprio vedere tutte queste persone giocare contemporaneamente all'evento. Questa manifestazione serve anche per smentire un luogo comune che gli scacchi non siano una disciplina per giovanissimi, invece non è così? No, assolutamente, lo stereotipo diciamo dello scacchista in questi anni è completamente cambiato, oggi i frequentatori dei tornei di scacchi per il 70% sono giovanissimi proprio, gli scacchi appunto che è una disciplina a tutti gli effetti del CONI, quindi del movimento sportivo italiano, oggi ha una grandissima partecipazione di giovani a testimonianza di questo e proprio questo evento. Dopo una lunga assenza torna Pescara all'opera lirica, obiettivo coinvolgere anche il pubblico dei giovani con una messa in scena spiccatamente contemporanea con un cast di giovani talenti. La traviata di Giuseppe Verdi sarà diretta da Jacopo Sipari con la regia di Alberto Paloscia in programma il 5 maggio al Teatro Massimo. E' una delle opere più conosciute al mondo, la prima rappresentazione avvenne al Teatro alla Fenice il 6 marzo del 1853. A causa della critica alla società borghese l'opera fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura fu spostata come ambientazione cronologica dal XIX al XVIII secolo. A Pescara torna la lirica dopo una lunga assenza con l'ambizione di essere fruibile anche al pubblico dei giovani. La traviata di Giuseppe Verdi sarà in scena al Teatro Massimo il prossimo 5 maggio con una lettura contemporanea curata dal regista Alberto Paloscia. Proprio perché riportiamo la lirica a Pescara dopo tanto tempo, ho lavorato su una produzione elegante e tradizionale facendo soprattutto un grosso lavoro di drammaturgia su cantanti che sono giovani e con cantanti anche del territorio abruzzese, grande attenzione per gli artisti del territorio. C'è anche un grande cantante già affermato e già solido professionista che è Giancarlo Ceccarini che è un baritono pisano che ha cantato nei più grandi teatri italiani e stranieri dalla Scala di Milano, l'Arena di Verona. A dirigere l'orchestra sarà il maestro Jacopo Sipari, abruzzese impegnato all'estero che all'ultimo festival pucciniano dell'America Latina ha registrato il sold out per Tosca e Madame Butterfly. Cerchiamo veramente di rendere una traviata che sia paideutica, che sia veramente espressione di tutto quello che noi in un certo qual modo reghiamo nel cuore e che sia effettivamente una traviata liberatrice per tutti coloro che vengono a vederla. Quando è che un direttore d'orchestra è soddisfatto? Quando sentiamo veramente le persone che alla fine di queste due ore di opera, dove hanno respirato con noi musicisti, lasciano un ultimo respiro finale sentendosi probabilmente felici di non aver perso queste due ore e questo probabilmente è la soddisfazione più grande. E ora andiamo all'Aquila, la Madonnina di Capo Preturo è stata restituita alla comunità in tutto il suo splendore, il servizio. Con una donazione di 10 euro al mese da parte di ogni famiglia della comunità di Preturo ha rivisto la luce nella sua veste originaria la Madonnella, la chiesetta di Capo Preturo. Le origini della Madonnella non sono certe, eccetto che per la datazione scritta contro la facciata, 1750. Questa, presumibilmente, è riferibile all'anno di edificazione dell'edificio sacro. Nella storia della chiesa non è comunque un anno come tutti gli altri, si tratta infatti di un anno giubilare. La Madonnella è un luogo caro soprattutto ai malati e agli anziani della comunità, devoti soprattutto al quadro dello sposalizio della Madonna che è custodito sull'altare della Madonnella. E' così che la comunità di Preturo si è stretta per assistere alla consacrazione della chiesetta della Madonnella, fatta con una celebrazione solenne, ufficiata dal vescovo metropolita dell'Aquila, Monsignor Petrocchi. Tra le reliquie tumulate nella consacrazione della chiesetta, anche quella del Libro d'Oro, con l'elenco di tutte le famiglie che hanno contribuito alla rinascita ed al restauro della Madonnella, perché possano rimanere a futura memoria dei posteri. Il podista di origine etiope, Senibeta Adugna, concede il bis dopo quella dello scorso anno. Si aggiudica anche la vittoria dell'edizione numero 38 della Maratonina Pretuziana, che si è svolta come da costume ieri, primo maggio. Soddisfatti gli organizzatori per il boom di iscritti alla competizione e per i tanti spettatori presenti ai margini del tracciato. Ci sono circa 1.200-1.300 atleti che hanno corso, cittadini, sportivi che hanno corso la gara di 5 km, per poi vedere quello straordinario spettacolo con i bambini, con le canottine, con i cappelli colorati, e anche loro molto numerosi, oltre 1.000 partecipanti, quindi veramente un'edizione da record. Io volevo un attimino cogliere l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori che hanno collaborato all'ottima riuscita di questa amministrazione, quindi tutti i componenti del gruppo Vodisti di Comandatori Teramo, le tante associazioni di volontariato che hanno veramente chiuso centimetro per centimetro il percorso, rendendolo sicuro. vogliamo ringraziare anche tutti i gruppi che hanno partecipato numerosissimi, da tutte le palestre, l'Università di Teramo con una straordinaria partecipazione. Con più di 300 arrivati. Con più di 300 arrivati, quindi ringraziamo tutta l'Università, il magnifico Rettore, tutti quelli che sono venuti, anche l'associazione a modo tuo per quanto riguarda l'associazione per l'autismo, la ASL di Teramo che ha voluto quest'anno promuovere il Teramo-Dona, cioè in collaborazione con l'Aido e con l'Anet. Adesso la nostra città sta completando il lavoro sul corso San Giorgio di pavimentazione per il rifacimento del corso e se tutto va bene il prossimo anno per la 39esima edizione, insieme al gruppo Vodisti di Comandatori Teramo, chiaramente vorremmo riproporre anche la gara internazionale ad inviti, molto spettacolare anche quello per palati fini. Questo servizio ci ha introdotto alla pagina sportiva e parliamo subito di Serie A e di Pescara. Da stamani sono in vendita i tagliandi per la partita di domenica prossima tra Pescara e Crotone. Intanto continua a tenere banco e a far discutere il caso Montari. Si attende nelle prossime ore il verdetto del giudice sportivo sul caso Montari. Domenica scorsa il centrocampista ganese ha abbandonato anzitempo il rettangolo di gioco del Sant'Elia a causa degli insulti razzisti subiti da alcuni tifosi del Cagliari. Un episodio increscioso che ha fatto parlare tanto in questi giorni. Montari, più riprese, aveva chiesto al direttore di gara Minelli di Varese di intervenire. Dopo tanta insistenza al giocatore è stato sventolato un cartellino giallo e allora Montari ha preso la via degli spogliatoi lasciando la squadra in dieci nei minuti di recupero e risultando a fine gara espulso dallo stesso Minelli come risulta da referto arbitrale. Inevitabile il provvedimento disciplinare ma resta da vedere cosa riporterà il comunicato del giudice sportivo. Intanto la squadra riprende il lavoro in vista della gara di domenica l'Adriatico Cornacchia contro il Crotone che conta solo per i pitagorici in grado, al contrario del Delfino, di riaprire la lotta a salvezza grazie ad una serie importante e inaspettata di risultati positivi. Al momento sono cinque quelli consecutivi della squadra di Nicola. La vittoria del Palermo, peraltro, complica l'obiettivo fissato da Zeman, cioè di evitare quantomeno l'ultimo posto. Ma se il Pescala vuole ancora provarci e soprattutto se vuole evitare di stabilire il record negativo di punti in Serie A col Crotone dovrà provarci. Anche se a questo punto la priorità è programmare il futuro, qualcosa già si è fatto ma Zeman, l'uomo su cui quel futuro sarà impergnato, dalla sala stampa del Sant'Elia ha lanciato un avvertimento, un vero e proprio monito. Mister, resterà a pescare anche la prossima stagione. Ci sono delle buone basi per costruire qualcosa di importante anche il prossimo anno, quindi subito la promozione? Io penso che oggi le basi non ci sono ma stiamo cercando di farlo. Non abbiamo ancora qualche partita, dopo che finiamo possiamo ricominciare a costruire. L'uscita dal campo, polemiche di Salle e Montari, ha trovato spazio anche sulla stampa britannica che evidenzia le difficoltà del calcio italiano a combattere il razzismo. In un articolo pubblicato dal Guardian è stato riportato nei dettagli quanto è successo nella partita, il battibecco del centrocampista del Pescara col pubblico prima, la discussione con il direttore di gara Minelli, poi fino alla decisione di Montari di abbandonare il campo. Dopo la cronaca, di fatti, non è mancata la stoccata critica da parte del quotidiano londinese. L'Italia fatica a fermare i cori razzisti nei suoi stagli e ci sono stati già numerosi episodi negli ultimi anni. Tra i casi citati anche l'amichevole di Busto Arsizio del Milan, durante la quale l'ex milanista Kevin Prince Boateng aveva scagliato una palla in tribuna per poi lasciare il terreno di gioco in seguito a ripetuti cori razzisti. E ora scendiamo in Lega Pro, questa mattina il presidente del Teramo Luciano Campidelli ha tenuto una conferenza stampa ed è stata l'occasione per ribadire la sua avvicinanza alla squadra e all'attaccante Sansovini, finito nell'occhio del ciclone dopo il gol fallito contro il Parma. In più Campidelli ha ribadito che anche il prossimo anno, comunque vadano le cose, rimarrà alla guida della società biancorossa. Vediamo. Negli ultimi due anni sono stati fatti degli errori. Non è che ce lo possiamo negare. Il più grande che ho fatto io personalmente è stato quello di pensare a tornare a vincere da subito, acquistando solo calciatori. Questa non è la strada giusta. Ci tenevo a difendere pubblicamente tutti i miei calciatori, attualmente in rose. Se vogliamo davvero salvarci abbiamo bisogno di tutti, nessuno escluso. Sono certo che i nostri calciatori hanno sempre dato il massimo e con l'arrivo di Ugolotti, che credo abbia fatto anche bene, forse con una rosa al completo, senza alcuni piccoli infortuni, avremmo potuto fare qualche punto di più che ci permetterebbe oggi di parlare di miracolo. Mi rivolgo in particolare a una francia di tifoseria, specialmente chi decide settimanalmente di mettere alla gogna tesserati o dirigenti, a chi parla di retrocessione programmata, dimenticando come il nostro sia uno dei 7-8 vagi più importanti del girone, a chi ci insulta sistematicamente e a chi non sembra voler bene a questi colori del teramo. Abbiamo commesso degli errori, è ovvio, ma solo chi non fa non sbaglia. Capisco l'amarezza della gente che si aspettava ben altro rispetto di una stagione così sofferente. Lo stesso ci aspettavamo noi, ma se un calciatore viene apostrofato pesantemente per una rete sbagliata, creando addirittura apprensioni e patemi alla sua stessa famiglia, c'è qualcosa che non va e che non posso digerire per nessun senso. Alla fine di ogni progetto si fanno i conti. E sui conti c'è chi viene confermato, a chi viene allungato il contratto, e chi, a seconda delle dinamiche oppure i meriti che hanno potuto avere o non avere nell'arco dell'annata, andrà via. Quindi i conti si fanno alla fine. Noi andiamo tutti a bere il caffè insieme, a Milano, a Torino, chi massacrano certi giocatori sono di Reggio Calabria, dell'estero, della Sardegna, della Sicilia. Qui stiamo tutti qua, ci ritroviamo in mezzo alla piazza e ci conosciamo tutti. E com'è possibile che se ci conosciamo tutti ci dobbiamo massacrare a questi livelli per far finire un giocattolo? Il giocattolo non finisce, perché io non mollo quando le cose vanno male. Io mollerò quando noi andremo benissimo. E a margine della conferenza, Campitelli ne ha approfittato anche per parlare dell'ultima giornata di campionato e delle possibilità di salvezza del Teramo passando dai play-out. Peraltro la partita di domenica prossima a Salò contro la Feralpi, fischio d'inizio alle 14.30, sarà diretta da Manuel Volpi di Arezzo. Metto il 50% perché i calciatori si devono mettere in mente che il pericolo c'è e quindi per superare il pericolo si devono impegnare da 1 a 10-10. Altrimenti per la mentalità che abbiamo rischiamo più noi che gli altri. Io penso che l'impegno ci sia sempre stato. Oggi va messo in più la ferocia, la cattiveria, la testa. Tutto quello che ci hanno messo fino ad oggi non è bastato. Quindi sicuramente tutto lo staff tecnico devono mettere più di quello che hanno messo fino adesso. Ma sono sicuro, io spero una cosa, che facciamo la partita fuori casa, la prima e la seconda la facciamo in casa perché sono sicuro che noi gli daremo una grossa mano alla squadra. Con uno stadio pieno gli daremo una grossa mano. La paura mia è solo quella. Voglio arrivare quinto ultimo, quarto ultimo per questo motivo. La prima la devo fare fuori casa e la seconda in casa. Sono sicuro che tutti quanti noi, perché io credo che tutti quanti noi vogliamo salvare il Teramo. Io penso che tutta l'Abruzzo, tutta la provincia di Teramo vuole salvare il Teramo perché è diventato un patrimonio. Di questa conferenza si parlerà diffusamente questa sera nel corso della nostra trasmissione delle ore 21 in diretta pro Teramo con la conduzione di Jacopo Forcella. Le prossime edizioni del TG6 invece saranno alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto. Grazie a tutti.